il direttore in settimana ci ha tributati diciamo così di alcune immagini private cioè non sono assolutamente cioè non dovrebbero andare su Twitch però comunque dato che il direttore è una persona estremamente superficiale e in me è mentore non vede degli amici o dei redattori ma vede due pelati ha ben pensato di montare il nostro viso su due personaggi di Dragon Ball che con noi condividono lo stesso parrucchiere possiamo farli vedere un attimo sì parto con il tuo ovviamente uno è Air Shihan è stato ribattezzato così adesso arriva ragazzi ma meglio che non arriva sinceramente è arrivato? guarda a tua difesa il fisico è uguale non c'è niente di strano solo i pantaloni verdi però che schifo mi ha detto no ma perché tra l'altro a me piace l'elegantissimo TN di Dragon Ball Super che è mega elegante ma ho scelto quello più tamarro però mi ha detto che il terzo occhio addirittura è preso da un'altra foto mia quindi c'è pure la lì quindi in uno scan retinometro è incredibile che si può rimuovere c'è il mento Rin che sarebbe la fusione tra il mento è una cosa che ho paura è Kvelin che l'abbiamo ribattezzato Mentorin che poi comunque molti mi hanno detto è Voldemort sinceramente io vado però vai 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 se ti va di perdere la dignità vai assolutamente è arrivato? eccolo carino e questo è per tributare i 666 FPS poi in realtà anche il gabbiano che è il mister gabbiano che io a questo punto lo farei vedere perché no dai perché comunque è stato per chi ci ha seguito in queste prime cinque puntate il nostro ospite semifisso quindi il gabbiano sebbene non sia parte del duo dei 666 FPS è tipo eccolo ma non è la terra quanta poesia ragazzi ringraziamo il direttore per aver creato dei conati di vomito in tutto il nostro dei capolavori dei capolavori assoluti Usaciani passava di là oddio santo assolutamente sì incredibile grazie a tutti